Il maresciallo Cecchini è pronto a grande passo. Forse? Dopo dieci anni, infatti, Nino Frassica noto attore e caratterista siciliano sembra intenzionato a convolare a nozze con la compagna Barbara Exignotis. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un'intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Frassica, che stiamo vedendo in queste settimane su Rai 1 grazie alle consuete repliche estive di Dona Matteo, presto sarà al lavoro per un nuovo progetto televisivo, questa volta destinato alle reti Mediaset, e, più precisamente, su Canale 5. Si tratta della fiction 1 di famiglia. E Barbara, invece, sarà prossima a entrare ufficialmente nella famiglia Frassica. Dopo dieci anni di fidanzamento, infatti, è arrivato il momento buono per i fiori d'arancio. Anche se Nino rivela di non aver ancora deciso un dettaglio alquanto importante, punto come ha rivelato il comico siciliano, sposerà la sua Barbara. Ma non si sa quando. Non abbiamo ancora deciso la data ha spiegato l'attore massinese perché devo capire quando partono le riprese della nuova fiction di cui sarò protagonista, ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo. Frassica e la ex ignoti si sono conosciuti dieci anni fa durante le prove dello spettacolo teatrale Il Lupo. Da allora è nato un amore senza fine. Tra loro c'è una considerevole differenza d'età. Si passano esattamente 24 anni. Lui ne ha 67, lei 43. Un dettaglio, questo, che non ha mai influito sul loro rapporto. Frassica e la ex ignotis, infatti, hanno intrapreso quasi subito una convivenza. Ma come sarà il matrimonio di Nino Frassica e Barbara ex ignotis? Nulla di pomposo rivela l'attrice a di più. Non vediamo l'ora di sposarci, di essere marito e moglie, anche se di fatto. Conviviamo da dieci anni e ci sentiamo già sposati. Vogliamo una cerimonia semplice. Mi prenderanno parte gli amici di Nino e mia figlia, che ho avuto da una precedente relazione. Sì, perché entrambi hanno alle spalle delle importanti storie d'amore. Lui è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti, lei, invece, da una precedente relazione ha avuto appunto una figlia che adesso ha 18 anni. . Ma chi è Barbara ex ignotis? Si tratta di un'attrice che in passato, ha avuto esperienze anche in film a luci rosse. Il suo curriculum, però, non ha mai spaventato Frassica. Anzi, Nino in più occasioni ha ribadito di non avere alcun tipo di problema per i lavori svolti dalla futura moglie. Proteggo molto, come direbbe uno che parla bene, la mia praivasi. . Del mio privato non dico nulla, aveva confessato l'attore a volte mi scappa un sussurro, che è poco più di niente. Ma la vita riserva sempre delle sorprese, dico perciò che se sono ruose fioriranno. . .